Premio Mia Martini 2014 viene consegnato ad Annalisa per essere riuscita dal 2011 ad oggi a raggiungere risultati prestigiosi, risultati che ha ottenuto mantenendo intatta la sua freschezza d'immagine, la sua cordialità e dando sempre più spessore alla sua voce e alla sua interpretazione. Grazie. Non ho parole, sono felicissima, grazie, grazie.